Gentili aziende, buongiorno! Questa settimana in promozione per voi trovate Telo per videoproiettori con cavalletto junior della Sopar Questi schermi con cavalletto sono semplici da usare si montano in un attimo e non necessitano di installazione sui muri Sono ideali per le applicazioni mobili, ripiegati, occupano pochissimo spazio e possono essere riposti in un angolo pronti per essere utilizzati in ogni momento Videoproiettore BANK MX501 La lampada che dura fino a 6.000 ore La risoluzione nativa XGA che garantisce immagini nitide e precise per ogni vostra presentazione e la tecnologia 3D sono solo alcune delle caratteristiche di questo videoproiettore per il business Tutte le altre le potete visualizzare sul mio sito larana.it Fax Panasonic FP205JT a trasferimento termico Perfetto perché ha poco spazio in ufficio È un fax a carta comune caratterizzato dal piacevole design Silver Un bel fax dal look al tempo stesso high-tech ed essenziale Infine copiatrice digitale Ricco Afficio MP1900 Qualità ed efficienza per tutti i lavori di copiatura Razionalizza e violicizza le operazioni di copiatura anche per gli operatori più inesperti Versatilità, investimento contenuto, produttività, semplicità d'uso, gestione ottimale della carta e copie